un metodo per guadagnare con bitcoin che sono sicuro molte persone non stanno sfruttando vi sto parlando del trading in opzioni su bitcoin molti di voi non conosceranno proprio questo strumento e lo so perché abbastanza complesso ad ogni modo ti lascio un video qui sopra dove spiego passo dopo passo cosa sono e come funzionano le opzioni e poi ritorno a guardare questo video supponiamo tu voglia acquistare bitcoin ad un prezzo minore da quella attuale attualmente bitcoin vale circa 50 mila dollari tu vuoi acquistarlo magari a 45 mila dollari nel frattempo che bitcoin arriva magari a quel target che tu hai scelto tu hai la possibilità di incassare dei soldi fino a quando bitcoin non raggiunge quei 45 mila dollari andiamo a fare qualche esempio qui siamo su bitcoin supponiamo che io voglio acquistare magari bitcoin non adesso che sta qui sopra ok è quasi ai massimi no io voglio acquistare bitcoin mettiamo caso quando scende qui più o meno a 45 mila ok più o meno qua quindi io mi ci metto in testa dico se il prezzo scende qua io acquisto perché io voglio acquistare basso per poi vendere alto quindi come posso fare ci sono due modi il primo è quello di mettere un ordine pendente qua io vado su by bit metto un ordine pendente qua che il prezzo da qui mi tocca questo livello i miei bitcoin vengono comprati a questo prezzo che ho deciso io ok ma se non tocca questo livello magari bitcoin da qui continua 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 a salire io però sto fermo cioè non ci sto investendo non ci sto guadagnando e non ci sto nemmeno perdendo come posso fare in modo da guadagnare nel frattempo che bitcoin possa magari tornare qui e farmi comprare bitcoin a questo prezzo come posso fare per guadagnare con il trading in opzioni questo è possibile cioè io nel trading in opzioni vado ad aprire un'operazione a questo prezzo a questo livello e decido una scadenza ad esempio 5 marzo è un esempio ok quindi apro questa operazione qui a questo livello e se il prezzo fino al 5 marzo comunque continua a salire oppure scende arriva qua poi risale poi rimane qua lateralizza e quindi poi scade arriva alla scadenza io ho guadagnato un premio io ho guadagnato dei soldi successivamente cosa posso fare faccio di nuovo un'altra operazione in opzioni e mettiamo caso che il prezzo sta qua io dico se il prezzo arriva magari più giù qui io voglio acquistare bitcoin ok solo però se il prezzo arriva qua se non arriva qua devo intascare un premio devo guadagnarci quindi da questo punto in poi bitcoin fa tutto quello che deve fare magari lateralizzare può salire può scendere può arrivare fino a qua può ritornare a salire può fermarsi qua e poi alla scadenza se il prezzo non mi ha superato questo livello che io ho scelto intascherò dei soldi finché poi arrivato a un certo punto che magari bitcoin mi toccherà questo livello o meglio non se me lo tocca se il prezzo si ritrova al di sotto alla scadenza io acquisterò bitcoin a questo prezzo che ho deciso io ok quindi non è che se mi tocca questo livello io acquisto direttamente bitcoin perché il prezzo può anche fare così può anche scendere sotto e poi magari il 4 il 5 marzo un po prima della scadenza risale io intasco ancora il premio non ho acquistato bitcoin a questo prezzo solo se la scadenza quindi 5 marzo ad esempio il prezzo si ritrova al di sotto io mi ritroverò ad acquistare bitcoin a questo prezzo qua capisco che può essere un pochino pochino complesso perché il trading opzioni effettivamente lo è e io vi sto spiegando tutto veramente in un modo banale per questo vi consiglio di andare a guardare il video dove spiego le opzioni in un modo elementare per capire un po quello di cui sto parlando allora io quello che vado a fare utilizzare bybit nella sezione derivati dobbiamo andare su usdc option e poi possiamo fare questa cosa su bitcoin oppure su ethereum io vado subito in capisco che può sembrare confusionale perché effettivamente si capisce poco ma ripeto andate a guardare comunque quel video per chiarirvi le idee allora io quello che devo fare è vendere una put ok quando io vado a vendere una put cosa sto dicendo sto dicendo che voglio avere la possibilità di acquistare bitcoin al prezzo che io decido quindi io decido di acquistare qui come già ho detto prima se il prezzo va a superare questo livello e scade al di sotto io acquisterò bitcoin a questo prezzo qua anche se poi attualmente il prezzo attuale starà qui giù io l'avrò acquistato qui sopra ok e come vado a fare questa cosa in pratica io in primis devo scegliere una scadenza vedete qua ci sono delle scadenze adesso è 14 febbraio quindi io voglio magari dire primo marzo ok primo marzo e voglio acquistare bitcoin magari ad un prezzo mettiamo caso vediamo un po qui siamo ai 44 mila va bene pure vicino ai 44 mila ci può stare ok 44 mila clicco quindi qui sulla destra dove sta ok sulla destra qui devo vendere sell ok devo vendere una put seleziono market e qui ci andiamo a fare un po di conti va bene ci sono varie strategie che noi possiamo mettere in pratica ma questa è la più semplice per farvi capire un po come si può sfruttare questa questa strategia questo metodo per guadagnare mentre bitcoin magari arriva al livello che non interessa quindi io vado ad aumentare effettivamente il mio investimento qui sotto vedo qual è il mio margine richiesto cioè by bit mi richiede un tot di soldi per poter aprire quella operazione ok quindi facciamo finta che io ho più o meno 1000 euro ok da investire ok 1000 euro va bene scendo in basso e mi esce questo grafico so che pure questo può sembrare confusionale non si capisce tanto ma seguitemi allora guardiamo qui questo è il prezzo di bitcoin ok quindi se il questa linea va a destra vuol dire che il prezzo sta salendo se la linea va a sinistra vuol dire che il prezzo sta scendendo e questa linea ci va a dire se guadagniamo se il prezzo sale e se guadagniamo se il prezzo scende mettiamo i giorni alla scadenza perché voglio vedere la scadenza quello che succede quindi io vado ad aumentare i giorni qua ok quindi mi va a fare il calcolo alla scadenza ok quindi io vedo questa linea e se mi fermo qua precisamente avrò il mio break even più o meno ok più o meno in questa zona qua verso i 45 mila dove io ho aperto l'operazione dove ho deciso di acquistare bitcoin a quel livello a quella cifra quindi alla scadenza quindi il primo marzo se il prezzo si ritrova al di sopra dei 45 mila qual è il mio guadagno io vado qui verso destra vedete e sono 37 dollari di guadagno vedete e il mio profitto è limitato cioè il mio profitto è quello è quello lì se invece il prezzo scende al di sotto dei 45 mila vedete che qui poi mi riporta una perdita ma quello che poi noi diciamo andremo a fare acquistare bitcoin ci verranno acquistati dei bitcoin e ci verranno messi nel nostro wallet ok quindi alla scadenza se il prezzo si ritrova al di sotto quindi dei 45 mila da noi scelti acquisteremo bitcoin e noi saremo contenti anche se in quel momento il prezzo sarà ancora più poco ma non ci interessa perché noi abbiamo deciso di acquistare bitcoin su questo livello ok e questa era la nostra idea ma nel frattempo che aspettiamo che il prezzo arriva lì noi abbiamo la possibilità di guadagnare soldi nel frattempo che bitcoin scende a questo livello perché io intascherò vedete questi soldi qua fino a che bitcoin non arriverà a quel livello quindi ho aperto questa operazione scade il primo marzo arriva il primo marzo il prezzo si ritrova al di sopra dei 45 mila che ho scelto io ok 45 mila il prezzo si ritrova ancora al di sopra e io guadagno questi 36 dollari scade l'operazione intasco questi soldi non possiedere ancora bitcoin vado ad aprire un'altra operazione magari la metterò a scadenza 29 marzo riapro una nuova operazione al prezzo che decido io scelgo ovviamente il mio investimento da fare e vado a fare di nuovo quest'operazione intascherò questi soldi più o meno poi dipende un po dai vari fattori dal prezzo delle opzioni ma va bene intascherò questi soldi finché il prezzo non raggiungerà quel livello da me scelto ovviamente ci sono delle cose da non sottovalutare ragazzi il trading in opzione è molto molto complesso cioè non è solo questo che vi ho fatto vedere una cosa su cui dobbiamo prestare attenzione è il margine richiesto il margine richiesto ovviamente è quello che baby ti chiede per aprire quella operazione ma io vi consiglio di avere almeno il doppio dei soldi comunque sotto sul vostro wallet se avete 2000 investite 1000 ok perché il prezzo nel momento in cui va a scendere il prezzo delle opzioni si vanno a gonfiare ci porta a una perdita momentanea per non andare in margin call noi dobbiamo avere tot soldi che vanno a coprire ci fanno portare avanti questa operazione fino a scadenza ok quindi questo è molto molto importante poi c'è un discorso abbastanza lungo e complesso riguardo alle opzioni io e la mia community privata lo utilizziamo sull'S&P 500 e da quello riusciamo a fare un bel po di cosine se vuoi conoscere di più questo mondo è come guadagnare anche ogni mese come noi già facciamo da un anno nella community privata parliamo di queste cose e soprattutto c'è un video corso dedicato proprio a questo quindi io ti ho mostrato questa cosa su bitcoin ma lo puoi fare anche su ethereum nello stesso modo in pratica e la cosa diciamo che noi possiamo sfruttare questa qui che vi mostro adesso magari selezioniamo un qualcosa a caso andiamo su strategia avanzate qui ci sono delle strategie già preimpostate ma qui si va un po nel complesso cioè io vado a selezionare questa strategia e lui mi va già a selezionare due opzioni che posso aprire o che due operazioni che posso fare insieme si vanno a combinare io metto la scadenza magari 23 febbraio scendo in basso e cosa posso vedere in primis metto che voglio vedere già la scadenza quello che succede questa strategia mi permette di fare una cosa cioè da 48 mila a più o meno 55 mila io perdo ok se invece il prezzo si ritrova al di sopra di 55 mila vedete guadagno vado aumentare se il guadagno si ritrova al di sotto dei 48 mila io vado a guadagnare quindi il prezzo alla scadenza non dovrebbe stare in questo range di prezzo bene questa è una strategia che possiamo modificare qua e possiamo pure modificare comunque questi parametri senza problemi poi ci sono altre strategie qua strangle è un'altra strategia che mi va già a selezionare tutto quanto lui qua io voglio vedere alla scadenza cosa succede e mi dice che dal da 47 mila fino a 55 mila più o meno vado a perdere ok cosa perdo il massimo è questo ok questo qua 200 euro circa mentre invece il guadagno è illimitato più sale più guadagno più scende più guadagno basta che alla scadenza il prezzo non rimane in questo range vado magari su butterfly e questa è un'altra strategia vedete no allora qui il prezzo sale vedete qui sotto quindi se il prezzo la linea va di qua a destra sale se va di qua scende e possiamo vedere il guadagno in corrispondenza poi del prezzo in questo caso se il prezzo rimane tra 50 mila e più o meno 51 mila io vado a guadagnarci se no ci perdo vediamo un po la scadenza però dobbiamo vedere sempre alla scadenza quello che succede quindi se il prezzo rimane tra 49 mila più o meno 48 mila questo è il nostro guadagno massimo vediamo qua 157 se il prezzo rimane tra 48 mila e 53 mila il mio guadagno sarà di questo 157 ok mentre invece se il prezzo si ritrova al di sotto dei 48 mila la mia perdita massima sarà di 254 di qua e la perdita massima di qua sarà di 353 quindi se io sono convinto che il prezzo non si muove da questo range più o meno io posso fare questa operazione e posso modificare anche i parametri qua studiate cosa sono le opzioni vi ho detto andate a guardare quel video che ho fatto al riguardo perché veramente sono molto complesse le opzioni iron condor è un'altra operazione che comprende 4 operazioni messe insieme che ti vanno poi a generare una determinata perdita o un profitto qui vediamo che se il prezzo scende al di sotto dei 48 mila nostra perdita massima 261 se il prezzo rimane al di sopra vincita massima 164 quindi abbiamo un range da 48 mila più o meno ai 55 mila ok quindi se il prezzo rimane in questo range io ci vado a guadagnare la scadenza qual è la scadenza sta qua 23 febbraio quindi stiamo parlando di circa 8 giorni più o meno 8 9 giorni ok andiamo ad intascare questo premio qua e vediamo questo profitto qua sarà il nostro guadagno ok quindi vado su call put spread questa è un'altra strategia ancora andiamo a vedere la scadenza cosa succede io vedo che ho una perdita massima di 150 153 se il prezzo supera i 52 mila se il prezzo va al di sopra dei 52 mila vedete io vado a guadagnarci fino ad un massimo di 400 e passa 440 più o meno bene però il prezzo non deve scendere al di sotto dei 52 mila va bene c'è la cover head call è un altro tipo di strategia che va a combinare effettivamente il trading con leva vedete qua questa ci apre un'operazione con leva e in più un'operazione in opzione ok vi consiglio di studiare prima prima di mettere in pratica tutto ragazzi perché se no vedete tutto ve lo metto per iscritto ok anche se come potete vedere perdete profitto come diciamo come stanno le cose potete comunque sapere prima del tutto il prezzo se superi 54 mila al ribasso io ci perdo e ci perdo sempre di più in un modo diciamo quasi illimitato se il prezzo da questo punto in poi va a salire avrò un guadagno ma ce l'avrò limitato fino a 614 dollari ok andiamo a vedere protective put qui pure ci va ad aprire un'operazione in leva e poi c'è questa operazione in opzione andiamo a scendere in basso la data mettiamo alla fine e vediamo che se il prezzo scende al di sotto di 51 mila io vado a perdere un massimo di 543 dollari se il prezzo da questo punto in poi va a salire io vado a guadagnarci in modo infinito ok poi ci sono questi parametri che pure bisogna studiare ragazzi io sto ancora studiando questo questo mondo è complessissimo complessissimo veramente se volessimo invece guadagnare con bitcoin in un altro modo come possiamo fare cioè sempre con le opzioni vado su personalizza anzi voglio uscire da questa modalità qua c'è un altro tipo di operazione un'opzione che possiamo fare cioè è comprare una put o una call se io compro una call sono rialzista quindi è come se aprisse un'operazione a rialzo se compro una put sono ribasista con un'unica differenza però mettiamo caso voglio comprare facciamo così allora 50 mila oppure 49 mila voglio comprare buy a mercato voglio comprare una put ok ho selezionato put buy e vado a comprare una put che significa quando compro una put in questo caso la mia perdita sarà sempre limitata vi faccio capire allora io vado qui metto sempre a scadenza perché questo è quello che a me mi interessa in questo caso sto acquistando una put quindi sono ribassista significa che se il prezzo da più o meno 50 mila va a salire quindi sale il valore del bitcoin io vado a perdere un massimo di 52 dollari che vuol dire vi faccio un esempio io ho aperto abbiamo detto l'operazione a 50 mila più o meno va bene quindi io apro questa operazione qua a 50 mila come vedete apro ad un prezzo di mercato molto inferiore rispetto al prezzo attuale ok io ho comprato una put quindi sono ribassista voglio che alla scadenza che deciderò io alla scadenza il prezzo questo qua deve ritrovarsi al di sotto ok quindi deve scadere che il prezzo sta al di sotto ed io guadagnerò in base a quanto va a scendere poi bitcoin ok come vediamo qua se il prezzo sale vedete qui va a salire il prezzo se il prezzo sale la mia perdita è quella 60 mila se va a scendere io guadagnò in base a quanto bitcoin andrà a scendere e voi direte io apro un'operazione normale via che mi serve sta opzione ti serve l'opzione perché nel momento in cui il prezzo non va a scendere qui sotto perché io se voglio aprire un'operazione normale la apro qui a prezzo di mercato e punto al ribasso al rialzo io l'ho aperta qui però io ho la possibilità di perdere sempre solo quella cifra che io ho già deciso se il prezzo rimane qui sopra e scende se fa questo può arrivare pure sulle nuvole a me non mi interessa perché la mia perdita sarà sempre quella come ad esempio il prezzo da qui sopra io voglio che deve scendere perché al di sotto qui io ci guadagno però se il prezzo da qui scende sale sale scende qua poi va sopra arriva a 100 mila poi scende a 30 a me non mi interessa la mia perdita sarà sempre di 50 dollari e la differenza con il trading tradizionale che io non ho uno stop loss che se appena viene toccato mi chiude l'operazione ok quindi facciamo finta che io ho una visione rialzista in questo caso io voglio che il prezzo di bitcoin deve andare a salire perché vedo che sta salendo ok voglio che deve andare a salire quindi cosa vado a fare vado a comprare una colla compro una colla magari la compro a vediamo un po vediamo un po vediamo se riusciamo a fare qualcosa buy mercato questo è il mio margine vedete sempre il vostro margine comunque importante che quello che vi viene richiesto per avere l'operazione allora scendo in basso vedo sempre la scadenza ok quello che bisogna vedere è questo se il prezzo scende al di sotto dei 51 mila e alla scadenza ci rimane la mia perdita massima sarà di 495 poi andate voi a gestire tutta l'operazione ragazzi in base al vostro budget ok vedete poi scende se il prezzo da quel punto in poi va a salire il mio guadagno è illimitato va in base a quanto poi sale bitcoin ok e questo è lo stesso discorso ho aperto l'operazione più o meno a 49.750 mi ritrovo ad aver aperto un'operazione a rialzo attenzione a rialzo però ad un prezzo minore cioè io nel trading tradizionale l'apro a prezzo di mercato ok se il prezzo mi scende un po io già mi ritrovo in perdita in questo caso io ho aperto la mia operazione qui giù e se la scadenza il prezzo rimane qua io ci avrò guadagnato ovviamente bisogna vedere quanto è al di sopra diciamo da questo punto in poi quanto va a salire quel bitcoin perché da quello dipende il nostro guadagno vedete più sale più guadagna va bene quindi il nostro breakeven più o meno è 51 mila più o meno va bene quindi superati 51 mila noi ci andiamo a guadagnare potremmo restare qui a parlare tanto e tanto tempo delle opzioni ma è un discorso abbastanza complesso quindi andate magari a guardare il mio video vi fate un'idea e approfondite magari da parte oppure entrate nella community perché noi questo argomento lo trattiamo abbastanza spesso e portiamo comunque avanti un investimento mese dopo mese e pensate che lo andiamo a fare comunque avendo una probabilità di andare in profitto del 98 per cento 97 per cento ad ogni modo potete sfruttare l'investimento in bitcoin proprio come vi ho fatto vedere cioè se siete intenzionati ad acquistare bitcoin adesso sia 50 mila lo volete acquistare a 45 mila nel frattempo che il prezzo arriva a 45 mila voi potete aprire un'operazione put quindi vendete una put quel livello che decidete voi se il prezzo rimane ancora al di sopra intascate un premio intascate sempre soldi finché il prezzo poi non arriva al di sotto dei 45 mila ci rimane alla scadenza a quel punto vi verranno comprati poi i bitcoin al prezzo che voi avete deciso purtroppo è molto sconosciuto questo mondo delle opzioni tante persone nemmeno lo riescono a capire tante persone lo confondono con il trading in opzioni binarie ma è tanto altro il mondo del trading in opzioni veramente molto complesso molto vasto e c'è bisogno di studiare veramente assai assai ad ogni modo ti lascio qui sotto il link della community investisurweb.com fammi sapere cosa ne pensi qui sotto nei commenti e noi ci becchiamo alla prossima ciao